buon pomeriggio a tutti ragazzi e ragazzi come va come state tutto bene ben ritrovati sul mio canale benvenuti in un video all di diversivi qui c'è lo scontrino di risparmio casa se avete visto il video volantino prima di questo qui c'erano delle offerte c'erano anzi ci sono fino al 10 agosto delle offerte invertibili e quindi non ne ho potuto fare almeno sono andata a fare la spesa ho speso 76 euro ma mi sono portata davanti di cose allora cominciamo subito perché ho delle buste qua vicino e sul tavolo questo qui che sono appunto del de maxi rodo di cartegenica con il brand risparmio casa quindi di questa macca qui e poi un'altra cosa che ho qui che non ho nelle buste è questo maxi fustone aspettate che lo metto qui questo maxi fustone 120 lavaggi quindi detersivo in polvere è il classico quindi il classico blu il profumo che a me piace tantissimo fresco di pulito e questo fustone guardate qua lo riposo perché è pesantissimo vi dico subito se riesco a dirvi anche i prezzi ve li dico allora il fustone dovevo visto poco fa il fustone 699 quindi 699 praticamente questo grossissimo fustone di detersivo in polvere igienizzante poi andiamo avanti allora ho qui la busta ci sono sia detersivi che prodotti per l'igiene cominciamo subito con questo qui valido che è una mousse candeggina più sgrassatore mille usi quindi adatto a tutte le superfici adesso non so se io forse avrei dovuto evidenziarli e prima però allora questo abbiamo detto che si chiama valido valido questo un euro e 69 poi andiamo con coccolatevi io non vedevo l'ora di provare questo qui è un ammorbidente questo è l'originale e 50 lavaggi quindi è ovviamente la colorazione blu che io amo e questo qui se sono scritto in ordine si sono scritti in ordine alfabetico l'ho pagato 3 euro e 75 forse questo è quello che tra tutti i vari detersivi che costano un po di più ma perché l'originale concentrato è a una profumazione adesso voi non potete sentirlo ma io non posso fare a meno fantastico fantastico cioè questo è qualcosa di eccezionale da provare assolutamente questa nuova linea coccolatevi quindi questi due poi andiamo avanti con ho preso perché sono in offerta e lo avrete visto anche dal volantino il vernel xxl questa volta ho voluto prendere la fresh controllo freschezza floreale con tecnologia neutralizza odori e freschezza di lunga durata da 24 ore a 7 giorni ecco su qui il vernel il vernel non lo trovo lo trovo pensavo che fossero messi in ordine alfabetico ma invece no eventualmente ve lo lascio poi scritto sul sul video non lo trovo e lo lascio eventualmente ve lo lascio scritto sul video ma comunque se avete visto il volantino tutti questi in formato xxl sono in offerta poi ho preso lui il mon amour questo qua detersivo extra profumato questo credo che sia la seconda la terza volta che che lo prendo vediamo questo qui il mon amour ecco ce avevo qua sott'occhio 3 euro e 75 quindi questo poi per quanto riguarda la passaviglie abbiamo deciso di prendere questo qui il finish power questo qua con le tab sono 80 da bus ed era in offerta rispetto a tanti altri prodotti per nella passaviglia quindi abbiamo deciso di prendere questo è il finish questo uno tra quelli che costato di più 9 e 90 ma sono appunto 80 tavolette per la passaviglia poi vediamo se riesco a prendere anche detersivi da qui così finiamo con i detersivi allora ho preso l'oro che sono le perle di elenor queste qua sono appunto blu e quindi voi vi immaginate queste perle con questo e con il detersivo o quello in polvere oppure il lanza bucato cioè sarà veramente un'esplosione di profumo poi ho preso questo moto qui soltanto 89 centesimi con il rosa e appunto con l'attacco abitato delle saldettine igienizzanti che queste fanno sempre comodo 70 centesimi poi ho preso degli spazzolini questi qua passa del capitano a 70 centesimi credo che siano setole medie queste qua ho preso i secchetti per la spazzatura e gli ho anche qui quindi questi qua sempre marchiati risparmio casa e questi forse questi non sono risparmio casa insomma i secchetti per la spazzatura per la differenziata perché noi abbiamo i contenitori quelli con diciamo larghi e quindi servono i sacchetti proprio adatti poi ho preso questo profumatore deodorante per la lavastoviglie 80 centesimi ho preso questo qui il win is che il cura lavatrice tutto in uno perché diciamo è necessario almeno una volta a mese fare un tipo di lavoro di questo sulla lavatrice ma anche sulla lavastoviglie bisognerebbe farlo per andare a eliminare tutti gli odori residui di muffa per andare a fare appunto una polizia più profonda e quindi andare a igienizzare per cui ho preso questo ma ho preso anche un altro prodotto sempre per la lavastoviglie questo sì le pastiglie 16 pastiglie anticalcare appunto per proteggere la lavatrice quindi questi poi andrò ad utilizzare insieme magari faremo un farò un video poi ho preso questa qui dac che praticamente il classico anatra vc e vc gel disinfettante vediamo che questo dac 1 e 89 pagato poi ho preso le e tabs più presto per la lavatrice avevo bisogno di fare scorta quindi tra tab se detersivo liquido detersivo in polvere avevo zerato tutto e quindi ho preso queste qua sempre in offerta ho preso queste ne sono due novità che già profumo nei sacchetti praticamente sono questi sono dei panni catturapolvere all'arancia quindi panni antistatici profumati catturapolvere questi all'arancia e questo invece al limone i classici swiffer però sono profumati ho preso il sale per la lavastoviglie un altro pacchetto di busto per la differenziata e questo per la lavastoviglie come vedete cioè se avete degli elettrodomestici importanti come la lavastoviglie come tutti sicuramente avremo lavatrice e asciugatrice vanno mantenuti e quindi c'è necessità di mettere il sale di mettere disincrossante il brillantante e via dicendo di tutti questi prodotti qui poi ho trovato allora il paradondax a 1 euro e 59 e per quanto riguarda l'igiene ci sono questi tutti questi bagnoschiuma della palmolive a 88 centesimi io ho preso questo qua al fiore di mandorlo e latte e questo all'oliva quindi questi due poi ho preso questo malizia doccia schiuma nutriente anche questi erano in offerta a 70 centesimi ho preso questo spruzzino per il mare per l'acqua per sfruttarci l'acqua a mare questo detergente intimo o neutro e aspettate non ho finito quest'altro malizia tutti questi prodotti qui questi e i palmolive sono tutti in offerta quindi praticamente li trovate a 70 centesimi 80 centesimi e davvero queste c'è da fare scorta quindi super consigliati poi ho trovato lui il nivea a protec 3 e care zero alcol questo è fantastico da un po che non trovavo questo blu e infine questo qui il dub questo qua con lo spray che è comodo da tenere in borsa piuttosto che il diciamo il roll on che molte volte si si attacca oppure lascia un pochettino umido preferisco questo a spray e nulla ho finito qua la mia mega spesa di detersivi e prodotti da risparmio casa vi aspetto numerosi nei commenti ditemi qual è il vostro detersivo preferito a me piace sempre confrontarmi con voi e ci vediamo prossimamente con altri video vi auguro una buona serata ciao a tutti ciao ciao